Questa è bella l'espressione, questa è l'espressione che è diventata un provebio Scurtica o pidoccio, scurtica, ma scurtica o pidoccio c'è la falla, perché un pidoccio è già qualcosa di infimo, un brinno, scurtica o pidoccio, penso che vuol dire, vuol parlare di gli enti raspiati, vuol parlare di gli enti che sono avvaro, vuol dire di gli enti che stai a fare qui, scurtica o pidoccio, vuol dire che manco c'è un criouetto, non la ti dà, dietro questa roba ma non c'è la mica dà a te perché scurtica o pidoccio, penso che non è mai male, c'è un po', ci sono niente che ti avete, poi ho un senso che ti avete, per esempio parliamo di un affare che è giusto, che è dritto, è così l'affare, ah è così ma, è così ma, ora che no, di oltre c'è uno ma, ma di oltre un ma, no, ora così no ma ce l'ha giustificato, io, un po' di oltre un ma, ma giustifichi glielo, insomma, allora dici, ma, ma questo, e come dice con il francese, il cuore rischio è bancato, è la stessa fare, scurtica o pidoccio, è la stessa udenza di cose. Ah, questa di nuovo, questa è giuntata per la Cina e per i pescatori soprattutto, ora, parliamo di un pescatore, un pescatore o di un'altra, o di una persona, per esempio, ha detto, ma io ho tali, se lo cacca amare a da nasce un esulotto, hai capito, vuole di che, tra tutte le scienze che lo vuole, può far ciò che lo vuole, questo e quello, e vabbè, faccio di nuovo senso di dire se lo cacca amare a da nasce un esulotto, vuole di che è qualche sia che, un te più, un te mica ventri qua, che è sfondato, perché c'è che è sfondato, ma questo senso qui è raro, è piuttosto un senso, non ho un bel senso, un senso positivo, di dire, scusse qui, ah, se ho letto una pedra a mare, per esempio, ah, da nasce un esulotto lì che ne ha da approfittare, ecco, non è mica male queste espressioni che ho, io non c'è da dire spesso, ne ascio soprattutto queste qui, può essere che c'è quella, poi, se lo vuole, eh, la miseria, ma questa è una modernità specialmente, una terza espressione, ne vado a calco e a calcaccio, ah, questo conosco perché, a Diciano, se era mento a 30 anni e Vattica abbiamo, e in cui dicevamo che con il tuo padre usava il pane, 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 usava la Allora, ne faccio il carco, il carco vuol dire carca, chargé, e carcaccio, piurativa, carcaccio, mi dico, non ne faccio né zitta né manca, come un momento di noi, un uomo né da bene né da male, ne faccio quanto non ne pensa. Questa è bella di noi, l'ho intesa, ma Eliana penso che la diceva. Facci cento parti in commedia, bella questa, facci cento parti in commedia, El fait commédie francese, El fait sans pas de commédie, vuol dire che facci tutti i vizi, i pugni sbagliati in ogni senso, o un bé o un mal, ma soprattutto vuol dire che si accomodano a cozzatela, perché si che pugnate cozzatela piuttosto.